Trieste Espresso 2018, siamo allo stand di Evoca Group, il più grosso produttore al mondo di attrezzature per la distribuzione automatica e per l'Oreca. Siamo in compagnia di Stefano Bucci, che è il responsabile per l'area balcanica nella sezione commerciale. Stefano, bentornato. Grazie, grazie. Ben ritrovato. Voi siete qui in tanti, perché vedo tanti i tuoi colleghi, avete in esposizione tantissime cose che fanno parte della sezione vending dedicata all'hotellerie, della sezione Oreca per i bar, il microoreca, quello che io chiamo microoreca, pasticcerie, gelaterie, eccetera, ma anche con una produzione professionale di un marchio storico di vostra proprietà, che è la Gaggia. Sì, come leader mondiale ormai nella produzione di macchine e attrezzature per l'out of office, come si dice, quindi il fuoricasa, il settore del caffè fuoricasa, del consumo fuoricasa, ci proponiamo con una vasta gamma e diverse gambe, una segmentazione di gambe variegata, con diversi brand e grazie agli ultimi investimenti che ha fatto la Evoca Group come società, abbiamo l'opportunità di proporre marchi come Saeco, un marchio storico molto sentito, mantenere diverse gambe con Necta, SGL e, perché no, come dicevi, anche un investimento importante con Gaggia. Partendo dalla base che già avevamo, quindi Necta, come Eureka, quindi soprattutto hotellerie, quindi prime colazioni, ristoranti super automatiche. Ma anche con le macchine del Vennin che stiamo guardando in questo momento, che sono quelle che ormai sempre più alberghi tengono nella hall o al piano per servire, quei clienti che alle 3 del mattino vogliono una bottiglietta d'acqua e così via. Esatto, esatto, questa esigenza è sempre maggiore, perché vediamo che l'hotel vuole automatizzare, dare un servizio maggiore, prodotti alternativi, quindi non solo acqua, non solo caffè, ma anche cosmesi, e quindi servizi sempre più improntati a dare una maggiore qualità nell'hotel e in queste ristorazioni. Un altro segmento che stiamo sviluppando in maniera forte è l'OCS, quindi l'ufficio ma non solo, con macchine ad hoc sia a capsule che a grani, quindi con marchio Saeco stiamo lanciando una macchina a due gruppi, con una doppia capsula che si chiama Duali, una macchina a capsule che si chiama Honda, a marchio Saeco e rilanciamo una macchina SGL che si chiamerà Jolly, quindi una macchina piccola molto interessante. Sotto il piano, come dicevamo, di un marchio molto importante che è nella nostra memoria, nel nostro background culturale che si chiama Gaggia, abbiamo forti aspettative, grandi investimenti sono stati fatti e vedremo nei prossimi tempi dei frutti con nuovi modelli e sicuramente se ne sentirà parlare. Abbiamo organizzato fra l'altro nel prossimo mese un lancio forte dei prossimi due modelli a marchio Gaggia, un super automatica e una manuale tradizionale, quindi diciamo che stiamo dando una forte svolta verso il futuro anche sul piano del bar, del ristorante e quindi del professional. Senza dimenticare le macchine che si trovano alle nostre spalle. Sì, c'è stato un forte rinnovamento tecnologico sulla gamma Oreca, quindi hotel, ristoranti ma sempre sull'automatico. Come vediamo il touch è una caratteristica preeminente di questo rinnovamento, l'estetica nuova con LED come vediamo è molto moderna e rinnovata e siamo pronti per competere comunque su questa gamma. Insomma ci aspetta un 2019 ricco di sorprese, di grandi novità e di nuovi prodotti da parte del gruppo Evoca in tutti i settori operativi. Assolutamente, gli investimenti che ogni anno facciamo sono tantissimi, speriamo di raccogliere il massimo e siamo convinti che il futuro sarà ancora nelle nostre mani e siamo ottimisti. Prossimo appuntamento fieristico? SIGEP a gennaio, Rimini sicuramente ci sarete e ci saremo anche noi con una buona presenza come sempre. Stefano, allora prima di salutare tutti loro, qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale poter entrare in contatto con voi per avere maggiori informazioni rispetto all'ampia gamma offerta al pubblico senza alcun impegno? Sì, indirizzo internet che trovate anche digitando Evoca su Google ma è www.evocagroup.com, sezione contatti, potete scriverci e sicuramente avrete seguito. Quindi direttamente sul vostro sito internet. Grazie Stefano. Grazie a te. Buon proseguimento. Grazie, buon proseguimento anche a voi, buoni affari. Noi siamo qui in piccolo dietro la telecamera, dall'altra parte della telecamera ci sono tantissime persone che chiedono informazioni sui vari modelli presentati e noi vi auguriamo dunque buoni affari. Non andate via perché abbiamo ancora tantissimo da presentarvi qui a Trieste Espresso 2018. Grazie, arrivederci.